Il Bitontor in casa da Brindisi con un punticino striminzito in bisaccia che rischia persino di non far morale per come è arrivato. Mr. Ragno opera una rivoluzione tattica e passa ad un più solido 4-4-2. Si affida al duo Petta-Siri per proteggere Figliolo, accanto all'argentino Biason, oggi per verodire un po' in ombre, sfodera la geometria di Agresta nel mezzo, dove Piarulli va a fare il quarto, davanti sarà l'ex palazzo a duettare con Capitano Lattanzio. De Luca dal suo canto piazza dietro le sentinelle d'Angelo, già stato neroverde e sicignano, sulla mediana la vivacità di Botta farà il paio con le intuizioni geniali di Balzano, Bitontino Doc, Palumbo, Francese e Forbes, Gomez a pungere in attacco. Non sarà facile per i protagonisti in calzoncini far valere la loro tecnica nell'insidiosa mota accambuffata da Prato del Franco Fanuzzi. Al sesto, Palumbo si invola sulla destra, supera Sirri e spara su Figliola che salva. Decimo minuto, sinistro da fuori di Piarulli e Pizzolato blocca agevolmente. Minuto 23, angolo da sinistra, stacca e incorna Lattanzio sopra la traversa. Al ventiquattresimo, Mancino sbirolo di Agresta su assist di Palazzo. Chilometrico rinvio del portiere al trentaseiesimo e sfera a Palumbo che salta Petta e calcia ad un sospiro dall'incrocio. A tre dall'intervallo, bella combinazione, Palazzo Piarulli in area altrui e Lobo di Montinaro. Alto. A rientro dagli spogliatoi, il piglio di Leoncelli sembra farsi finalmente beluino, tant'è che al settimo e vantaggio, con la solita pennellata dai 25 di Sirri. Incrocio e cuoio nel sacco. Un paio di giri di lancetta e Piarulli semina il panico fra i brindisini. D'Angelo e Pizzolato se la sfangano alla meno peggio. Minuto 23, Montinaro ne blompaio, ma viene turlupinato da una zolla e manda la sfera a forarle grigie nuvole. Dieci minuti dopo, tuffo a pugni uniti di Figliola che disinnesca la punizione a giro di Balzano. In zona Cesarini, quando i Leoni parevano in sereno controllo del vantaggio, il pareggio dei padroni di casa. Palumbo si insinua nel fianco vulnerabile del reparto arretrato ospite, il sinistro. Sirri lo mure regolarmente e vede rosso. Botta spiazza Figliola dal dischetto ed è 1-1. Ora, con la Puteolana, non ci sono alibi o alternative. Bisogna vincere e basta. Altrimenti si farà davvero dura risalire la china e sarà bene cominciare a guardarsi alle spalle.